Il Napoli ha rilasciato una nota ufficiale in merito al recente comportamento dei giocatori azzurri. Dopo gli allenamenti di ieri, infatti, i calciatori sono tornati subito a casa, rifiutandosi di andare in ritiro come disposto dal club. Con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, la società procederà a tutelare i propri diritti economici patrimoniali di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Questa è la comunicazione del club, che continua precisando di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all'allenatore della stessa Carlo Ancelotti e di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire. L'inizio di stagione è davvero difficile, il cambio in panchina potrebbe portare il Milan ad utilizzare la finestra invernale di gennaio per intervenire sul mercato. Fra i reparti destinati a ricevere nuovi innesti c'è senza dubbio la difesa, piacciono Rugani e Demiral della Juventus, ma se la vecchia signora non si deciderà in inverno ad abbassare le pretese, portarle a Milano sarà molto difficile. I gol latitano, ad oggi l'attacco del diavolo è tra i peggiori del campionato. Ibraimovic rimane un sogno, meglio allora pensare a carte più concrete. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla così alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Rispetto a quello di Balotelli succede spesso che la vittima è colpevole, è un problema di tutta l'Europa, di tutto il mondo, non solo d'Italia e mi auguro che è un problema di lottare giorno dopo giorno a casa, nella scuola, con tutti, non è un problema solo riguardo nel calcio, purtroppo. Una settimana bella di viverla, venire a Italia è sempre un piacere, giocare domani con l'Atalanta con la possibilità di qualificarci per le ottave finali. E poi una partita importantissima, fino a settimana domenica, dove mancherà ancora tre quarta parte della stagione, ma è importantissima per l'estadio e per tutti, come qua, venire a San Siro è sempre una gioia. Remo Freuler, giocatore dell'Atalanta, parla così del popolo nerazzurro che si riverserà in massa allo stadio San Siro per sostenere i propri beniamini nella gara contro l'El City. Hanno tutti qualità, sono tutti veloci, hanno una tecnica molto molto alta e quindi devi stare attento 90 minuti perché sennò ti passano le palle anche tra le orecchie e quindi devi stare molto attento anche tutti i 90 minuti. Ho detto già, non lo so, 200 volte che i nostri tifosi sono devastanti e vengono a tutte le parti e poi anche Milano è vicino e sono incredibili.